Io sono per la rinegoziazione del debito dell'amministrazione comunale per fare in modo che sia possibile arrivare a ridurre le tasse. La Raggi ci ha proposto legittimamente il baratto e la moneta alternativa. Su questo dovranno decidere i romani. Andremo avanti nella campagna elettorale, saremo io e lei a confrontarci e a misurarci su questo, sperando che almeno per questi quindici giorni non sia sottratta, come è accaduto fino adesso, la possibilità ai romani di comprendere effettivamente quali sono le proposte alternative. E poi ovviamente saranno i romani a decidere. Saranno a decidere anche sulla competenza di ciascuno. Sì.